Alessandro Arioto, uno dei volti nuovi del Bageria, uno degli ultimi arrivati. Intanto, come ti stai trovando a Bageria in questa tua nuova avventura? Sinceramente mi sto trovando molto bene, mi hanno accolto come si fa nelle grandi famiglie. Il mister, squadre e società sono sempre presenti e non mi fanno mancare assolutamente niente. Una gran bella botta l'hai presa nella partita col Gangi, però quella botta è servita a qualcosa. Al calcio di rigore, che poi alla fine ci ha spianato l'asta e ci ha fatto conquistare tre punti che forse alla vigilia erano impensabili. Sì, è stato un episodio, come potrebbe succedere a me, potrebbe succedere a qualcun altro. L'importante è che abbiamo portato a casa i tre punti, inaspettati, però qua si lavora per vincere, si lavora per fare bene. Quindi è tutto frutto del lavoro settimanale. Poi purtroppo, dopo la vittoria col Gangi, la vittoria con la Stefanese, è arrivata una battuta d'arresto con il Geraci. Troppo forte il Geraci o avete giocato un po' sotto tono pure voi? Il Geraci sicuramente è una grande squadra, pronta per il salto di categoria, però sicuramente è mancato anche un approccio sbagliato alla gara. Magari sicuramente il campo non ci ha aiutato, la temperatura può neanche, perché c'era molto freddo, però sicuramente è mancata di intensità da parte nostra, soprattutto. Ora un derby molto sentito qui, quello col Misilmeri. Tu magari non lo sai, il Misilmeri è allenato da un ex del Bagheria, Gian Paolo Lobue, e c'è pure un portiere in porta che era prima qui. Una partita quindi che sarà giocata con il coltello tre denti da tutte e due le squadre. Che cosa deve fare il Bagheria per far solo la partita? Il Bagheria non deve fare niente di particolare, deve lavorare come facciamo sempre e i risultati arriveranno. Il derby è sentito da tutte e due le squadre, però sappiamo che se lavoriamo al massimo poi i risultati arrivano, quindi non ci preoccupiamo di chi abbiamo davanti, lavoriamo sempre come se dovessimo giocare contro la capolista. Ma questa squadra, secondo te, dove può arrivare? La squadra è una squadra giovane, peccato in qualche partita di esperienza, però è una squadra forte in tutti i reparti, quindi ovviamente noi puntiamo ai play-off. Speriamo, guardiamo il nostro, cerchiamo di fare sempre il meglio e speriamo di arrivarci appunto. Grazie. Grazie.